Sono state tre le indicazioni suggerite dal Papa e partecipanti al Convegno Internazionale per Vicari Episcopali e Delegati per la Vita Consacrata, ricevuti in Vaticano. Tre strade che convergono in un unico punto. Tutti siamo chiamati, ha detto Francesco, ad essere pontefici, costruttori di ponti. Il nostro tempo, aggiunto, richiede comunione nel rispetto delle diversità che vengono dallo Spirito Santo e di cui non si deve avere paura. Ricordando che la Vita Consacrata è un dono alla Chiesa e per la Chiesa, il Papa ha incoraggiato i pastori a promuovere diversi carismi, ad essere vicini con tenerezza e amore ai consacrati e insegnare fedeli il valore di questa scelta, ma anche a rispettare senza manipolare la pluridimensionalità della Chiesa, mentre i consacrati a loro volta non devono isolarsi. A loro è infatti chiesto di non essere un patrimonio chiuso, ma una sfaccettatura integrata nel corpo della Chiesa, attratta dal centro, che è Cristo. Sull'elezione dei nuovi istituti di vita consacrata, pur sottolineando che il vento dello Spirito continua a soffiare, ha chiesto vigilanza, attenzione e prudenza nell'adeguata formazione dei candidati e aiuto tra i vari pastori nelle decisioni delicate da prendere. Fondamentale è coltivare mutue relazioni, dialogo, fraterna collaborazione per la Chiesa che è casa di comunione. Infine, una speciale attenzione va rivolta alle sorelle contemplative, fari e fiaccole nel cammino degli uomini, che vanno accompagnate e trattate da donne adulte nel rispetto delle competenze e senza indebite interferenze.